buongiorno e benvenuti nel mio canale e scusate la voce che soffre un po di rauccedine giusto ieri ho mostrato come installare e usare a shampoo music studio 2022 che è un programma che si può scaricare gratuitamente da una pagina che ho linkato appunto in questo post questa e insieme al post come il mio solito ho pubblicato anche un video questo qua in cui spiegavo appunto come utilizzare programmi principali di music studio 2022 qui c'è un errore invece ho messo nella copertina music studio 2020 invece di studio 2022 però insomma è una cosa minima un problema minimo che una mia distrazione comunque poi ho mostrato come funziona music studio 22 che tra l'altro funziona più o meno con music studio 20 ho anche fatto un altro errore ho detto che con music studio 2022 si possono modificare i tag delle canzoni dei brani musicali ma non si possono modificare le copertine invece si possono modificare anche se delle volte non funzionano bene questa questa modifica oggi vedremo appunto come si fa a modificare le copertine cioè le immagini che si visualizzano nel momento in cui si riproduce un brano con un lettore che naturalmente ha la particolarità di mostrare anche la copertina del brano stesso per esempio vlc ce l'ha facciamo vedere se io per esempio vado qua ci sono dei brani musicali questo per esempio un brano musicale che non ha copertina vedete un mp3 che però non ha copertina questo non c'è un mp3 che ha copertina si vede subito dalla miniatura della miniatura avete nella miniatura si vede la copertina del brano mp3 questo ugualmente non ha copertina questo non ha copertina questo invece ha copertina naturalmente poi ci sono delle immagini che possono essere usate anche per sostituire le copertine oppure per aggiungerle ai brani che non ce l'hanno naturalmente le immagini possono essere scelte da noi oppure cercate anche su internet come vedremo facciamo un esempio pratico dunque alzitutto come si fa a impostare vlc come player predefinito per gli mp3 si clicca con il tasto del mouse su un qualsiasi mp3 e si va su proprietà questa è una funzione che esiste sia in windows 10 sia in windows 11 si apre proprietà si va come vedete qui si vede subito che questa applicazione predefinita è vlc media player se non lo fosse cambia si imposta vlc media player con il programma predefinito si va su ok quindi su applica e quindi su ok ancora e quando si è applicato vlc come programma predefinito si vedono direttamente su esplora file le copertine dei singoli brani mp3 se io infatti adesso riproduco un brano mp3 senza copertina io ascolterò soltanto la musica ma non vedrò il brano magari adesso diminuiamo anzi alzeriamo abitamente il volume tanto non ci interessa il brano a se stesso ma soltanto come funziona vedete qui viene riprodotto il brano ma non si vede niente se invece riproduco un brano mp3 con la copertina ci faccio un po' di clic e vedete si viene riprodotto il brano ovviamente non si sente perché la girata il volume ma si vede anche la copertina come vedete le copertine sono quadrate e con una risoluzione piuttosto bassa perché vedete prendono soltanto una piccola parte del player e adesso vediamo come con music studio 2022 si possa aggiungere una copertina ai brani mp3 che non ce l'hanno e eventualmente cambiarla invece ai brani mp3 che ce l'hanno cominciamo subito con aggiungere una copertina a un brano mp3 che ce l'hanno che non ce l'hanno vado a dire quindi apriamo music studio 2022 andiamo nella home modifica strumenti modifica i file tag ci clicca sopra qui si aggiunge un file in questo caso un file mp3 che non ha copertina ci si clicca sopra si apre spora file e magari aggiungiamoci questo brano qua che non ha copertina andiamo su apri a questo punto per aggiungere una copertina noi dobbiamo andare sulla matica qui come vedete non c'è nessun tag non c'è il numero della traccia non c'è il titolo del brano c'è l'album non c'è l'artista non c'è il genere non c'è nessun tag quindi si può aggiungere la copertina andando su cambia qua quindi non si può ricercare su internet perché non si può ricercare visto che non c'è nessun dato non c'è nessun titolo nessun album niente di niente si può soltanto caricare un file e qui si può caricare un file quadrato oppure un file anche rettangolare cominciamo con un quadrato per esempio scendiamo questo si va su apri come vedete viene subito mostrata la copertina nuova si va sul check verde quindi come vedete enchanté feature is tabalina e quindi si va su avanti e verrà aggiunto questo tag cioè la copertina torniamo al menu principale se io adesso vado su la cartella in cui è quel brano come vedete insieme all'icona tvlc c'è anche la copertina che ho inserito se io faccio un solo un duplo click che succede vedete il brano viene sprodotto ma viene sprodotto anche con la copertina che ho aggiunto si può anche cambiare copertina per esempio cambiamo copertina adesso a questo brano qua torniamo al menu principale si va su modifica modifica file tag selezioniamo appunto un file selezioniamo appunto questo andiamo su apri modifichiamo la copertina questa quindi si va sulla matita qui come vedete ci sono anche vari i tag della traccia del titolo dell'artista eccetera eccetera in questo caso si va su cambia si va su carica file e magari stavolta mettiamoci una copertina di tipo più larga andiamo su apri non quadrata come vedete viene subito applicata vado sul check verde e questa è la nuova la nuova copertina vado su avanti e verrà applicata torno al menu principale e come vedete è stata applicata questa nuova copertina se io ci ho fatto sul punto blu click si dovrebbe vedere questa nuova copertina non sempre succederebbe perché delle volte non funziona ho potuto constatare infatti vedete stavolta non ha funzionato però sostanzialmente il sistema è quello come vedete funziona qua però non funziona adesso quando si riproduce può darsi però che nel momento in cui si riavvia il computer si visualizza effettivamente questa nuova copertina facciamo un'altra prova cioè cerchiamo una copertina da internet questo naturalmente è importante farlo nel momento in cui si hanno dei brani piuttosto conosciuti perché dei brani non conosciuti come questi è un po' più complicato comunque andiamo sempre su modifica modifica i file tag aggiungi file stavolta aggiungiamo per esempio questo qua andiamo su apri quindi andiamo sulla matisa e adesso cerchiamo su internet si va su cambia come vedete si può cercare anche su internet in questo caso possiamo cercare perché c'è sia il titolo sia l'album sia anche l'artista charlie mosbrook quindi su ricerca quindi su ricerca internet possiamo cercare su google su amazon su dacdago su bing su discogs e su ecosia clicchiamo su google si aprirà google naturalmente e si effettuerà una ricerca con i tag che sono stati quindi cioè titolo del brano soprattutto nome dell'artista ecco fatto e qui come vedete c'è probabilmente a questo è quello che c'è di un mosbrook cioè l'artista lo se ne spediamo selezioniamo questa immagine e la portiamo in questa zona qua ecco fatto viene caricata questo punto si va sul baffo e come vedete è stata cambiata a questo punto possiamo quindi andare qua sul baffo se io vado su avanti verrà aggiunta questa copertina torno al menu principale se io vado qua sul ecco come vedete a questo è stata aggiunta questa nuova copertina non sempre però funziona nel momento in cui lo riproduco immediatamente sempre lo ripeto voi riavviate il computer probabilmente poi visualizzerete anche la miniatura nel momento in cui si riproduce se la riproduco adesso probabilmente non si vedrà perché non ho capito perché bisogna riavviare il computer per farla diciamo così rilevare automaticamente però viene rilevata automaticamente nel momento in cui si visualizza su explorer file altra cosa si può tentare anche di eliminare una copertina per esempio eliminiamo la copertina di questa di sonia isabel andiamo su modifica modifica il file tag aggiungi il file ci diamo appunto sonia isabel andiamo su apri andiamo su la valita andiamo su cambia andiamo su cancella e quindi cancelliamo la copertina andiamo sul cerchio verde come vedete qui non si vede più niente non si vede più la copertina andiamo su avanti torniamo al menu principale andiamo adesso su explorer file come vedete su sonia isabel non c'è più la copertina però probabilmente se io adesso la riproduco si vedrà la copertina ripeto però il discorso che se noi poi riaviamo il computer probabilmente poi non si vedrà più in questo caso comunque ha funzionato perfettamente vedete non si vede più la copertina quindi possiamo eliminare una copertina se c'è aggiungerla se non c'è cambiarla con un'altra cercando da internet oppure caricandola con un nostro file immagine che abbiamo il nostro computer possiamo caricare sia quadrata sia rettangolare come vedete contrariamente ad altri programmi come mp3 tag che accetta solo le immagini di tipo quadrato queste music studio 2022 accetta anche le immagini di tipo rettangolare e questo è tutto alla prossima volta